Ma perché non ti fidi? Guarda che io non ci metto niente andando dal comandante d'avanzo. Ma io mi fido è una cosa psicologica, così per scoplo. Senti, magari c'è un buco nella fodera. Tu devi stare tranquillo, va bene? Devi stare tranquillo. Tu ti devi fidare, va bene? Forza! Tra un mese decideremo con calma che... No, Chiara. D'avanzo. Guarda che non ci metto niente. Andando dall'avanzo è pronto. Non l'ho fatto apposta, via, dai! Porca troia! Dove l'ho apposta, Iuri! Dove l'ho apposta? Stop! Non hai preso la bocca, per favore, giusto? Appena vedi? Oh, stop! Stop, stop, stop. Grazie, grazie. 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 Grazie.